Sera, finalmente la vittoria. Una vittoria arrivata in rimonta con una squadra che ha lottato fino alla fine. Che cosa rappresenta oggi questo successo? Ci voleva, ci voleva, l'avevo detto ieri in conferenza, l'avevo detto prima della partita. Speravo che facessero vedere quello che fanno vedere a me tutti i giorni, l'impegno, la dedizione. Secondo me come ci si allena si gioca poi alla domenica. È sempre stato questo dicta nella mia carriera da giocatore ed allenatore. Sono molto felice per loro. Chiaro non abbiamo fatto niente ma dobbiamo migliorare. Ma oggi è una grande partita del gruppo, del gruppo che ha trascinato la nostra gente. Sono felice per il nostro presidente, per il nostro direttore, per tutta la Salernitana. Meritavamo una giornata simile. Avevo capito nelle scorse partite che c'eravamo, stava per arrivare. Sassuolo c'è sfuggita ma vedevo la squadra in netta crescita e non lo stavo tante l'assenza di ieri. Ero molto sereno perché li vedo tutti i giorni e sono felice che si siano ritagliati. Una giornata simile ne avevamo bisogno. Buonasera mister, volevo chiedere sull'episodio del rigore che ha cambiato ad un certo punto una partita in equilibrio. Molto discusso perché hanno atteso molto al VAR, l'arbitro non lo aveva concesso. Poi è andato a rivederlo, è stato molto tempo lì. E chiedere contemporaneamente forse c'era anche un fallo di mani dall'altra parte. Cioè voglio dire, certe partite possono cambiare. Sì, sì. No, no. Quel rigore poteva ammazzare una squadra, qualunque squadra, ma non noi. Io a fine primo tempo ero sereno, dispiaciuto perché non meritavamo di andare in svantaggio. avevamo preso una traversa, avevamo avuto qualche occasione importante. Non avevamo subito neanche un tiro in porta. Per cui andare in svantaggio all'intervallo in un momento così di risultati, delle vittorie che non arrivava, poteva ammazzare chiunque, ma non una squadra che si allena in questo modo, che ha questo spirito, che aveva fatto un primo tempo del genere. Sapevo che era difficile ribaltarla, ma ci speravo. Gli ho fatto i complimenti a fine primo tempo e mi hanno poi dato da ragione, perché al di là che poi siamo andati in vantaggio, ma la squadra ha difeso bene, chi è entrato, la panchina, chi non ha giocato era in campo sulla linea insieme a me. Belli, questi sono dei bei messaggi e sono contento che il pubblico oggi abbia rivisto la Salernitana che merita. Non lo so, non l'ho visto, ma dopo quando vinci vai a rivedere poco. In questo momento siamo, non siamo fortunatissimi, però vincerla così, al di là se c'era, non c'era ancora più bello. Mister, buonasera. Erano oltre 180 giorni e questa squadra non vinceva, al di là insomma del suo arrivo, le chiedo che cosa è cambiato. Lei dice che ero sereno anche ieri, l'abbiamo aspettata questa vittoria, è arrivata e poi ha riscoperto un grande castanos. Ma io ho un bellissimo rapporto con tutti i giocatori, devo essere sincero. Loro sanno quanto sono in difficoltà, quando devo fare delle scelte. Oggi, nonostante l'assenza, avevo tre o quattro dubbi e me li sono portati fino all'ultimo minuto. Perché si allenano in questo modo? Castano, Scandrea, se giocano così si possono solo divertire, ma sono contento per loro. Però chi è entrato? Bron, che aveva giocato poco, è entrato con uno spirito. Primi che mi vengono in mente. Per cui oggi un plauso veramente a tutti. Avevamo lavorato duramente in queste due settimane, ma vedevo che l'aria era cambiata. Però se continuo a dirlo e non si vince, poi le parole le porta via il vento. Invece oggi abbiamo fatto i fatti e sono felice. Salve mister, eccomi qui. Ciao, volevo chiederti questo. Al di là dei tanti episodi, ci sono alcune scene di questa partita che mi piace sottolineare. L'abbraccio tuo con Candreva, i gol di Castanos e Candreva. Candreva e Mazzocchi che insieme vanno sotto la curva a fine partita. Tutti che si abbracciano. Il segno del cambiamento lo si percepisce anche così. È di testa che la squadra sta cambiando e dovrà cambiare adesso per dare continuità a questa vittoria importante? Beh, abbiamo bisogno di un successo, ma io vedevo, insomma, sapete quello che dico in conferenza, non lo faccio, se non fossi sicuro, non mi permetterei di parlare così perché abbiamo una società e un pubblico che non ci fa mancare niente. Per cui speravo facessero vedere, come ho già detto, Candreva così è da nazionale. Per cui io ho un bellissimo rapporto, sinceramente. Al di là che poi magari una panchina di uno o dell'altro devono saperlo accettare, ma se Candreva lo sa anche lui è questo. Nessun allenatore al mondo pensa che lui non possa giocare, ma siccome Antonio ci tiene tanto, probabilmente era un periodo, abbiamo parlato tanto in questo periodo, era un periodo in cui era triste per l'andamento della Serenitana, ma perché è uno che come Castano ci tiene tantissimo. Io gli ho detto di giocare liberi e di farmi vedere quello che avevano fatto in allenamento. Oggi l'hanno dimostrato, però adesso dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto niente. Io mi auguro che questa vittoria ci dia la forza di migliorare nel gioco, perché questa squadra può giocare meglio, secondo me. In allenamento gioca meglio, aveva qualche paura che doveva scrollarsi di dosso e chiaramente una vittoria così ci farà migliorare sensibilmente, secondo me. Salve mister, oggi ha scelto una difesa 3, contro il Sassuolo Reggio Emilia 4, dovremo abituarci a queste valutazioni di partita in partita, tenendo conto del momento anche dell'avversario. O pensa di aver trovato quest'oggi probabilmente la formula giusta per questo organico e per questi giocatori? Ma intanto in fase di non possesso giocavamo a 4, perché il nostro terzo usciva sul terzino loro. Dani, che poi è stata un po' anche una sorpresa. Lui ormai, sì, perché avevamo visto il Torino e il Monza che con loro giocando così non avevano sofferto tantissimo e la Lazio, soprattutto sugli esterni, è molto forte e se dovevamo fare quelle scalate rischiavamo con Zaccani e Filippo Anderson di arrivare in ritardo con i terzi che dovevano fare una grande scivolata. Abbiamo deciso di fare questo, la squadra l'ha fatto bene, però oggi avremmo potuto giocare a 3, a 2, a 1, è lo spirito, è la voglia. Poi io scelgo i migliori giocatori e se i 3 difensori mi hanno dato, mi hanno dimostrato che è merito di giocare, giochiamo a 3, non è un problema questa squadra, come dicevo prima, poi tutti i 20 minuti ci siamo messi 3-5-2 perché ci siamo compattati e non volevamo prendere gol e hanno dimostrato di non volerlo prendere. Tutto sta nella loro testa, mi auguro che da oggi sia un filino più leggera. Mister, l'ha detto prima, è una partita che ha giocato anche lei praticamente insieme a tutta la panchina, a 10 minuti finali. Ho fatto anche lo scorpione. Sì, ho visto. Non ero scivolato. Abbiamo visto tutta la panchina in piedi, a un certo punto lei ha fatto togliere la pettorina prima a Simi, poi a Cabral, poi a Bruno, sono stati 10 minuti molto particolari, insomma pensava di fare evidentemente anche un altro tipo di sostituzione, che cosa l'ha portata a togliere Pirola, a inserire Bron, insomma se ci spiega che cosa, quali sono stati i ragionamenti. Grazie, sì, Pirola mi ha chiesto i cambi, aveva i crampi e io speravo invece di mettere una punta davanti che ci tenesse qualche pallone perché Candreva aveva fatto una partita a livello fisico straordinaria, ma mi aveva chiesto anche lui il cambio. Charles Icomesi aveva fatto una partita straordinaria e speravo di mettere Cabral o Simi per tenere qualche pallone, ma purtroppo poi l'andamento della gara ci ha portato a fare dei cambi, abbiamo messo Maggiore perché Maggiore è entrato molto bene e sono contento per il ragazzo perché è un ragazzo un po' insomma che mi auguro che il pubblico si affezioni a lui, perché è un ragazzo straordinario che è in allenamento dall'anima e secondo me da ora in avanti vedremo il vero Maggiore perché è entrato veramente con uno spirito, c'è il vertice basso, ci ha schermato tanti palloni e mi auguro che i tifosi rivedano la squadra che hanno visto insomma anche l'anno scorso per spirito, per voglia e insomma a fine partita vi vogliamo così e mi auguro che sia l'inizio di un periodo insomma importante, noi abbiamo partite molto complicate ma se siamo questi ce la giochiamo con tutti. Grazie. Grazie.